La Regione ha disposto a partire da oggi la riapertura di ristoranti e pizzerie senza limiti di orario sul territorio campano. L'orario di chiusura dei locali dove si svolge la cosiddetta movida resta invece fissato inderogabilmente alle ore 23. Gli orari fissati per i locali pubblici, fanno sapere dalla Regione, saranno soggetti a periodica valutazione in relazione alla situazione epidemiologica e al rispetto delle misure di sicurezza. Vietati eventi e parti in sale da ballo e discoteche all'aperto o al chiuso che possono costituire pericolo di contagio. Da venerdì invece riapriranno le aree mercatali non più soltanto per i generi alimentari. La Regione ha dato mandato alle amministrazioni comunali di predisporre i previsti dispositivi di sicurezza nei mercati stessi. Mi sembra una cosa un po' spropositata perché se uno rispetta ed è rispettoso sulle norme che il governo ha emanato penso che non ci sia la differenza. O chiudi alle 11 o chiudi alle 2 di notte penso che sia la stessa cosa. Se uno è scostumato è scostumato alle 10 è scostumato a mezzanotte. Se uno è educato è educato alle 22 anche a mezzanotte. E' una cosa che poi De Luca sicuramente maturerà e vedrà le persone e cambierà questa cosa. Sono fiducioso perché lui prima vuole vedere giustamente come si comporta il popolo e poi diciamo così concederà le altre ore. E' un segnale di speranza e stiamo aspettando giustamente ancora le banche che ci finanziano. Noi ancora siamo fermi con le banche. Fino adesso abbiamo avuto solo, mi sembra, solo due accessi di microfinanziamenti. A noi serve un finanziamento grande perché se no non ce la facciamo a ripartire. Perché è comunicente a catena, è rimasto tutto dietro. Bisogna rivedere tutto, fitti, mutui, bisogna rifare un po' tutto da capo. Bisogna iniziare da zero. Parlare con le persone, con i proprietari dei locali, dove paghiamo il mutuo con le banche. Perché giustamente siamo tutti nella stessa barca, voglio dire. Se prima incassavo 100, era 100 e andavo avanti, grazie a Dio. Sono quasi 20 anni che stiamo qua, non è mai successo niente, è mai tornato un assegno indietro. Dal momento in cui tu mi fermi la nave che sta camminando, è inocente a catena. Bisogna rifare tutto da capo. Bisogna sedersi a tavolo con le persone, con tranquillità, stipulare i fitti da capo, vedere come è l'andamento, come è il flusso. Perché io solo questo faccio, la ristorazione, non ho altre entrate. Alberghi, ristoranti, bar, pizzeria, questo teniamo.